Ciao a tutti lettrici e lettori, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e qui su Alibrary parliamo di libri. Quest'anno ho deciso di partecipare anch'io alla sfida dello scaffale strabordante. Che cos'è la sfida dello scaffale strabordante? Consiste nello scegliere 30 libri che giacciono magari da molto tempo sugli scaffali della nostra libreria, sui ripiani della nostra libreria e ci si impegna a leggerli nell'arco di 12 mesi. Quindi da qui ad un anno. L'obiettivo evidentemente è quello di ridurre la percentuale dei libri non letti in libreria e quindi assottigliare la famosa pira della vergogna. Sinceramente non ho idea di chi sia il creatore della sfida, di chi abbia lanciato questa sfida, intrapreso questo gioco per la prima volta. Però ho visto moltissimi booktuber condividere i risultati sia della sfida passata, quindi i libri letti, non letti dell'anno passato, sia presentare i 30 libri che hanno intenzione di leggere quest'anno. Per esempio Martina, Ima in the Books, ha pubblicato la sua sfida dello scaffale strabordante qualche giorno fa all'inizio di settembre, ma anche Teresa Bibucalula, Piovono giuggiole, se non sbaglio anche Sebastiano fame di libri, partecipa alla sfida. Teoricamente bisognerebbe iniziarla il primo di settembre e concluderla il 31 agosto. Infatti molti creator hanno pubblicato il loro video relativo alla sfida alla prima settimana di settembre. Io arrivo come al solito con qualche giorno di ritardo, insomma siamo già a metà del mese, però insomma non cambia poi tanto. Cominciamo e poi l'idea è tra 12 mesi, quindi alla fine del mese di agosto, inizio mese di settembre, ritrovarci qui e scoprire quanti dei 30 libri individuati sarò riuscita a leggere. Vi lascio i link ai canali che vi ho nominato prima qui sotto nell'info box, anche se immagino che già li conosciate tutti. E invito anche voi ad intraprendere la sfida insieme a me, a condividerla sui vostri canali social, se ne avete, o semplicemente, se volete partecipare a questo gioco, ad individuare 30 libri all'interno della vostra libreria che attendono da tempo di essere letti e poi magari alla fine dell'anno capire insieme se avete centrato o meno l'obiettivo. Oggi io sono qui semplicemente per mostrarvi i 30 libri che ho individuato all'interno della libreria e che ho intenzione di leggere nell'arco di quest'anno. Come mai proprio quest'anno ho deciso di partecipare alla sfida? Perché fondamentalmente i libri non letti in libreria stanno aumentando sensibilmente negli ultimi tempi. Non sono mai stata una grande accumulatrice seriale di libri non letti, anche perché voi avete sempre visto questa libreria alle mie spalle, ma quando io ho aperto il canale mi ero appena trasferita in questa casa. Prima vivevo in un appartamento molto più piccolo e dove non c'era spazio per accumulare libri e di conseguenza tendevo a prenderli in prestito, a leggerli in biblioteca e ad acquistare poi quei libri che effettivamente mi piacevano o di cui desideravo avere la copia cartacea. Quindi davvero possedevo pochissimi libri in casa e come vi ho già detto più volte, poi quando vivevo a casa dei miei genitori, i miei genitori avevano una libreria molto fornita e di conseguenza ho sempre attinto lì per fare le mie letture. Quella che vedete alle mie spalle è quindi una libreria relativamente giovane e di conseguenza la percentuale di libri non letti si è sempre mantenuta accettabile. Invece avendo spazio a disposizione, nell'arco di questi anni effettivamente i titoli non letti si sono accumulati. Ho ceduto anche io a qualche attacco di shopping compulsivo. Bando alle ciance, però adesso vi vado a presentare i libri che ho intenzione di leggere nell'arco di quest'anno. Ah, altra premessa, ovviamente si tratta di una sfida con se stessi, di un gioco, quindi fa niente se anche a distanza di 12 mesi non avrò, non avremo letto i 30 libri che c'eravamo prefissi. L'importante secondo me è darsi degli stimoli, darsi, come dire, motivarsi insomma a smaltire la pira della vergogna, ma insomma senza troppa rigidità, senza essere troppo severi con se stessi. Voi non avete idea del disastro che c'è qui di fianco perché ho accumulato qui tutti i libri che ho selezionato. Adesso ve li vado a mostrare uno per uno. Cominciamo con il primo titolo, partiamo subito alla grande con La casa degli spiriti di Isabella Allende che giace qui in libreria da un bel po' di tempo, tant'è che nel frattempo Feltrinelli ha anche pubblicato un'altra edizione di questo romanzo e spero che sia stampata con un carattere un po' più umano di questo perché è veramente stampato con un carattere piccolissimo e questo è uno dei motivi che mi ha sempre, come dire, dissuoso dall'iniziarlo. Però vorrei leggerlo, mi ripropongo quest'anno di leggere La casa degli spiriti. Poi, altro volume Feltrinelli che ho acquistato ormai un po' di tempo fa, Il Vangelo secondo Gesù Cristo di Saramago. Di Saramago io ho letto Cecità che mi era piaciuto tanto e mi ero riproposta di leggere questo titolo, quello che l'avevo comprato, Saramago però è un autore impegnativo e quindi richiede una certa dose di concentrazione. Però, insomma, magari d'estate potrebbe anche essere il momento giusto per leggere questo titolo. Numero 3, perché Istanbul ricordi di Ahmet Mith? La pronuncia sicuramente sarà sbagliata. Io ho acquistato questo volume perché ad una tornata di Indie Books la casa editrice scelta era Ronzani Editore e non mi ricordo più chi aveva parlato di questo romanzo ambientato ad Istanbul. Io a Istanbul ci sono stata, è una delle mie città preferite, l'ho comprato e poi non l'ho più letto. Andiamo con un altro mattone, La Traversata Notturna di Andrea Canobbio, pubblicato dalla nave di Teseo. Era candidato allo strega di quest'anno. Non mi ispirava, nel senso che non era tra i titoli della dozzina che io avevo selezionato, ma ne hanno parlato tutti bene e alla fine l'ho comprato. Quindi questo libro è relativamente nuovo, però voglio leggerlo perché io mi conosco e so che o lo leggo adesso, che sono incuriosita dalle recensioni positive che ho sentito su questo titolo, oppure non lo leggo più. Quindi voglio leggerlo nei prossimi mesi, altrimenti ve lo dico se alla fine dell'anno non l'avrò letto va a finire che lo venderò. Mi conosco. Poi Gente nel Tempo di Massimo Bontempelli. Io avevo letto Figlio di Due Madri, Il Figlio di Due Madri, e avevo comprato i due libri, quindi Figlio di Due Madri e Gente nel Tempo insieme. E poi Gente nel Tempo non l'ho più letto, anzi qualcuno di voi mi ha anche scritto nei commenti grazie a te ho letto Gente nel Tempo, ce l'hai mostrato, ci hai parlato bene di Wontempelli, però io invece sono rimasta indietro, quindi voglio recuperarlo. E poi ho un titolo, Iperborea, l'uccello nero di Gunnar Gunnarsson, che dovrebbe essere una sorta di giallo. Mi chiedo anche come mai io non abbia più iniziato questo libro, probabilmente perché mi ero anche dimenticata di averlo comprato. Altro libro che inspiegabilmente non ho mai iniziato, non mi sono mai decida di iniziare, è Il Manoscritto di Frank Tiglie, dovrebbe essere un bel thriller avvincente, quindi chissà, bah, chissà perché non mi sono mai decisa ad iniziarlo. La Pvona di Hottessa Moshfeg, anche questo libro relativamente giovane, io di Hottessa Moshfeg ho letto sia Il Mio Ano di Riposi Oblio, sia La Morte in Mano, mi sono piaciuti soprattutto La Morte in Mano, quindi quando è uscito questo volevo leggerlo subito, poi alla fine causa blocco del lettore, non l'ho più letto, però vorrei farlo. Poi Il Cardellino di Donna Tart, comprato subito dopo aver letto e amato Dio di Illusioni, ma siccome Dio di Illusioni mi è piaciuto tantissimo, ho paura che Il Cardellino mi deluda. E quindi ogni volta che mi avvicino alla libreria, lo prendo in mano e mi dico, lo leggo, due secondi dopo ci ripenso e dico, no dai, la prossima volta, perché ho paura che mi deluda. Non lo so, però non posso farlo invecchiare più di tanto, cioè ho voglia di leggerlo, quindi quest'anno, quest'anno ce la posso fare. A quanti siamo? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Andiamo con il decimo titolo, decimo titolo, Teoria e pratica di ogni cosa di Marisha Pessel, anche questo ho appena comprato, però vorrei, vorrei leggerlo a breve. Mi era piaciuto tantissimo Notte Americana, questo è stato recentemente ristampato, l'ho subito acquistato e vorrei leggerlo. Quindi questi sono i primi dieci titoli, andiamo con gli altri dieci. Allora, mi limitavo ad Amare Teddy, Rosella Postorino. Già che ci siamo togliamo anche la fascetta, io detesto sovracopertine e fascette. Candidato al premio strega, era il favorito, anzi si dava quasi per scontata la sua vittoria, l'avevo comprato perché comunque desideravo reggerlo. Allora, alla fine mi sono decisa a dare un'altra chance a Rosella Postorino, però anche questo vale come per Canobbio, o lo leggo adesso o va a finire che non lo leggo più. Questo davvero è un acquisto di vecchia data. La notte si avvicina di Loredana Lipperini. Io di Loredana Lipperini avevo letto Magia Nera, che era una raccolta di racconti horror, diciamo, e questo dovrebbe essere un libro che parla di stregoneria. Loredana Lipperini a me piace, perlomeno Magia Nera mi era piaciuto molto, avevo acquistato questo e poi più letto. Direi che forse è il caso di recuperarlo. Anche Sveglia Mia Mezzanotte, Fuani Marino, l'avevo comprato un bel po' di tempo fa, forse ne aveva parlato proprio Martina Ima in The Books, però è ancora incelofanato, non l'ho neanche tolto dalla confezione. Poi Il Pendolo di Focolte di Umberto Eco. Ad onor del vero questo libro non l'ho comprato, ma l'ho rubato dalla libreria dei miei genitori. Io di Umberto Eco ho letto Il nome della Rosa e Baudolino, che ho amato tanto. Ho poi letto Il Cimitero di Praga, che non ho sopportato, ho detestato con tutta me stessa quel libro, ho fatto una fatica assurda per finirlo e da lì non ho più letto niente di Eco. Però, insomma, quest'estate, passando davanti alla libreria dei miei, mi sono presa questo e forse è arrivato il momento di dare un'altra chance ad Umberto Eco. Se non mi piace neanche questo, però se mi traumatizza anche questo, basta. Io con Eco ci rinuncio. Proseguiamo con Alabama di Alessandro Barbero. Anche questo acquistato due, tre anni fa e poi più letto. Dovrebbe affrontare il tema del razzismo negli Stati Uniti tra fino a 800 e inizio a 900. Poi Anna Maria Ortese, Il mare non bagna Napoli. Io con Anna Maria Ortese ho un rapporto un po' ambivalente, perché ho seguito un corso su di lei all'università, che non ho amato particolarmente. Anzi, dopo quel corso mi sono detta io di letteratura del Novecento non voglio più sentire nulla e mi sono buttata a capofitto nel Medioevo. Però si citava spesso durante il corso questa raccolta di racconti. Alla fine me l'ero comprata, perché il corso non riguardava Il mare non bagna Napoli, ma altre sue opere. Però appunto mi sono comprata questo libro, che poi non ho più letto. Due autori invece italiani contemporanei, entrambi pubblicati da Mondadori, La vita di chi resta di Matteo Bibianchi e Giudizi sospesi di Silvia D'Aipra. Entrambi i titoli di cui ho sentito parlare molto bene, li avevo acquistati con l'intenzione di leggerli quest'anno, poi anche lì incappata nel blocco del lettore non ho più letto niente. Restiamo in Italia con La madre di Eva di Silvia Ferreri. Dovrebbe essere una sorta di diario scritto da una madre che assiste la figlia, che al compimento del diciottesimo anno decide di cambiare sesso. La tematica è molto delicata, quindi anche questo titolo l'ho comprato perché mi interessava, però va un po' letto nel momento giusto. Mentre il liceo di Alessandro Berselli dovrebbe essere una storia di bullismo, episodi di bullismo che si verificano all'interno di un liceo prestigioso. E con questi siamo a 20, quindi mancano gli ultimi 10. Allora, Murakami, Kafka sulla spiaggia. Da un po' che ho comprato questo titolo mi fa paura perché io di Murakami apprezzo soprattutto i romanzi realisti, un po' più realisti, mentre quelli parecchio surreali, onirici, mi mettono un po' in difficoltà. Però, insomma, questa è una delle opere più famose di Murakami, forse il suo romanzo più famoso insieme a Norwegian Wood. E quest'anno voglio strappare il cerotto, voglio strappare il cerotto e leggerlo. Poi, altro titolo che vorrei leggere, La via del bosco di Longlit Woon. La protagonista dovrebbe essere una donna che riesce a superare, a metabolizzare un lutto grazie al contatto con la natura e in particolare si appassiona di funghi. Proseguiamo con Luigi Malerba, Itaca per sempre. E dovrebbe essere una sorta di retelling dell'Odissea. L'avevo acquistato perché pensavo potesse essermi utile a scuola. Poi una mia collega che l'aveva letto, anche lei, insomma, mi ha un po' smontato, nel senso che lei l'ha proposto ai suoi studenti e i suoi studenti gliel'hanno cassato, non è proprio piaciuto. E quindi lì mi si è sgonfiato un po' l'entusiasmo. Però quest'anno vorrei recuperarlo. E poi Cassandra Mogadiscio di Ijabascego. Anche questo è candidato allo strega di quest'anno. L'avevo acquistato perché di Ijabascego non ho mai letto niente. E questo potrebbe essere un buon modo per rompere il ghiaccio. Poi, altri due titoli a tema stregoneria. Lo sanno tutti che tua madre è una strega di Rifka Galken, non lo so, e Caterina Tuchkova, l'eredità delle dee. Don De Lillo, Cosmopolis. Di Don De Lillo ho letto solo Rumore Bianco, quindi volevo recuperare anche questo. Ormai l'ho acquistato da un po' di tempo. E poi, questo, Vor di Brian Cutling. È il primo volume di una serie di due. Ed è una sorta di racconto avventuroso, fantastico. È anche il mio genere, quindi chissà perché ho procrastinato così tanto. Andiamo con il penultimo, Piranesi di Susanna Clark. Io mi sarò ripromessa di leggere questo libro un sacco di volte. E poi, alla fine, non lo leggo mai. Anche questo è una sorta di fantasy. È anche la mia zona di comfort. Quindi, sinceramente, non so dirvi come mai. Alla fine non me lo sono mai letto. L'avevo comprato, super entusiasta. Poi è passato l'entusiasmo del momento. E tante volte mi sono detta, dai, questo giro leggo Piranesi, questo giro leggo Piranesi. Alla fine non l'ho letto mai. E poi, l'ultimo è un saggio. L'ultimo, il trentesimo libro di questa lista è un saggio. Non ho inserito saggi, ma libri di narrativa, perché di saggi in realtà io ne sto leggendo diversi negli ultimi tempi, ma più che altro per la scuola. Quindi sono saggi di storia o comunque di didattica, cose che non vi condivido qui. Però, insomma, non volevo appesantire troppo la sfida con altri saggi. Però questo ce l'ho davvero da un bel po' di tempo, ed è Homo Deus, breve storia del futuro di Harari. Io di Harari ho letto Sapiens, storia del genere umano, che ricostruisce un po' tutta la nostra storia passata. Ho letto 21 lezioni per il ventunesimo secolo, che analizza le sfide che ci attendono nel futuro prossimo, o che comunque stiamo già affrontando in questi anni, anzi, per certi versi, 21 lezioni per il ventunesimo secolo è già datato, perché effettivamente alcune cose profetizzate si sono già effettivamente realizzate, sono già successe, mentre Homo Deus si focalizza sul futuro, quindi sulle sfide future che attendono l'uomo, ma non si tratta di un futuro prossimo, come nel caso di 21 lezioni, ma di un futuro, diciamo, a lungo termine. Ed è l'ultimo di questa, tra virgolette, trilogia che mi manca. E l'ho acquistato insieme a Sapiens, quindi davvero un bel po' di anni fa, e quindi vorrei, vorrei leggerlo. Bene, questi sono i 30 titoli che mi impegno a leggere nell'arco di questi 12 mesi. Ovviamente prendiamo questa sfida per come va presa, quindi come un gioco, come un modo per motivarci, per stimolarci a migliorare, ma senza troppa rigidità, senza troppa severità. Quindi non sto assolutamente promettendo che non comprerò più libri nuovi senza aver finito questi, anzi, giusto l'altro giorno sono stata ad un corso di aggiornamento e il tema era la promozione della lettura, la promozione della lettura e alla fine della giornata i relatori hanno condiviso una serie di titoli che loro sono soliti proporre ai ragazzi a scuola. alcuni li avevo letti, molti altri no e quindi la wishlist si è allungata tantissimo e quindi non faccio promesse che poi so di non mantenere. Il video di oggi finisce qui, lasciate un pollice in su se siete arrivati fino alla fine e se vi piace leggere, vi piace sentir parlare di libri, di letteratura, siete nel posto giusto quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati con i miei contenuti. Qui sotto nell'info box trovate anche i link ai miei social. Io come sempre vi mando un bacione, un abbraccio, vi do appuntamento prestissimo al prossimo video. Ciao!